Musica L'ospicio IGL critica la regione sulla gestione della pandemia. L'intervento arriva dopo l'incontro svoltosi lo scorso 2 febbraio con il direttore generale dell'assessorato regionale della sanità. La pandemia ha messo in crisi anche il mercato immobiliare e quanto emerge dal bilancio delle compravendite nell'anno appena trascorso. L'onorevole Carla Cucco è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle. La consigliera regionale ha dato un mandato ai suoi legali di presentare ricorso all'autorità giudiziaria. Nuova grande impresa del Carbonia nel campionato di Serie D. La squadra di Marco Mariotti ha battuto il Monterosi, la principale candidata alla promozione in Lega Pro. Buon inizio settimana a tutti i telespettatori di Canale 40. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. è molto critico il giudizio della segreteria SPI-CGL-Lega Carbonia sulla gestione dell'emergenza Covid da parte della Regione. Sentiamo il servizio curato da Gianpaolo Cirronis. La segreteria SPI-CGL-Lega di Carbonia interviene oggi sulle problematiche legate all'emergenza Covid. Dopo un incontro tenutosi il 2 febbraio tra la CGL Sarda, unitamente alle categorie della funzione pubblica e dello SPI, e il direttore generale dell'assessorato regionale della sanità. Il direttore generale, si legge in una nota del sindacato, ha fornito pochi dati sulla campagna vaccinazioni e sull'attività delle USCA. Manca un confronto diretto con l'assessore Niedu che non si è mai reso disponibile. Dei pochi dati forniti è emerso che al 1 febbraio sono state vaccinate 42.685 persone, delle quali 16.085 hanno ricevuto anche la seconda dose, e fra questi 557 nelle RSA, ma solo 158 anziani ospiti, certamente piccoli numeri. È evidente quindi che sulla campagna vaccinale ci siano delle preoccupanti lentezze e la mancanza di una organizzazione sull'equa distribuzione territoriale dei vaccini. Per quanto riguarda le USCA, ad oggi sono attive 24 di queste, dove lavorano 152 medici, tra quarti a tempo pieno, gli altri specializzanti a tempo parziale, e 21 infermieri che si fanno carico di 1.264 pazienti, rimarca ancora la segreteria SPCGL Lega Carbonia. È stato inoltre evidenziato che per le liste d'attesa, problema molto sentito dai cittadini, è stato redato il piano di smaltimento lo scorso dicembre e nei prossimi giorni le aziende sanitarie lo presenteranno. Sul recovery plan ha risposto il direttore generale che i dieci progetti elaborati verranno resi noti soltanto se approvati dal governo, in barba alla trasparenza. Sull'edilizia sanitaria ha citato gli interventi, dei quali si parla da anni, che riguardano gli ospedali di San Gavino Monreale e il Santa Barbara di Iglesias, e la messa in sicurezza anti-covid dei pronto soccorso e l'incremento dei posti in terapia intensive. Infine, sull'assistenza territoriale, sottolinea ancora la segreteria SPCGL Lega Carbonia, il direttore generale ha comunicato che una struttura tecnica dell'assessorato sta lavorando a un piano, ancora in fase embrionale, da presentare all'assessore e, per ciò che riguarda il personale, c'è la disponibilità di 2 milioni di euro per incentivare i medici sulla campagna vaccini. Noi pensionati della Lega SPCGL di Carbonia non possiamo stare in ermi di fronte ad una marcata incompetenza e all'assoluta mancanza di responsabilità dell'assessore regionale della sanità. Pertanto, siamo pronti ad intervenire con iniziative forti e mirate e pronti a coinvolgere, qualora ci fosse la necessità, la popolazione a difesa dei nostri diritti, conclude la segreteria SPCGL della Lega di Carbonia. Non permetteremo ad alcuno di barattare la nostra salute d'ora in poi, chi non è in grado di agire per il bene collettivo, chiederemo che si faccia da parte. Voltiamo pagina a Carloforte. La situazione sanitaria legata alla diffusione del coronavirus migliora ma non ha ancora raggiunto l'obiettivo Covid-free. Nell'ultimo aggiornamento fatto via Facebook, il sindaco Salvatore Pugioni ha annunciato che altri due cittadini si sono negativizzati. Sette hanno terminato il periodo precauzionale di quarantena, mentre sono due i nuovi casi di positività rispetto al precedente aggiornamento. Gli attualmente positivi restano quattro, mentre c'è una sola persona ancora nel regime di quarantena preventiva. Le persone finora sottoposte a testa antigenici rapidi sono 305. Ed ora il consueto aggiornamento regionale. Sono 83 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna su 2.318 test eseguiti tra molecolari e antigenici rapidi. Il rapporto casi positivi e tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività del 3,5%. Si registrano 7 decessi, sono 320 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, meno 13 rispetto al dato di sabato e 27 meno 1 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.655. Restiamo in tema, si è conclusa con la giornata di ieri la seconda tappa della campagna di screening anti-Covid Sardi e Sicuri il progetto della Regione, realizzato con Ares ATS e la collaborazione del professor Andrea Crisanti microbiologo e ordinario dell'Università degli Studi di Padova. Coinvolti 52 comuni della provincia di Nuoro il capoluogo barbaricino è stato il primo banco di prova per lo screening in un grande centro urbano. I tamponi antigenici eseguiti nella seconda e ultima fase sono stati complessivamente 41.746 di cui 17.785 nella sola giornata odierna. La tappa nuorese dello screening fa registrare così 82.020 test eseguiti nelle quattro giornate del 6, 7, 13 e 14 febbraio con il raggiungimento del target fissato inizialmente. Ancora parziale il dato dei casi rilevati. Al momento le positività al Covid confermate, comprensive anche del dato sul tracciamento dei contatti, sono 22 e si riferiscono ai test eseguiti nel primo weekend il 6 e 7 febbraio. Oltre 720 tamponi rapidi somministrati ai cittadini di Fonni e tre positività da confermare con il tampone molecolare e il bilancio della due giorni dell'iniziativa della regione Sardegna, Sardi e Sicuri, ripetuta ieri e sabato nel paese della Barbagia. Mi sento solo di ringraziare uno ad uno, ha voluto ribadire la sindaca di Fonni Daniela Falconi, tutti i fonnesi che tra ieri e oggi si sono presentati in palestra nonostante le temperature davvero gelide e quasi proibitive. Ringrazio tutto il personale di ATS, sia chi era presente in palestra, sia chi ha lavorato in queste settimane per garantire che tutto si svolgesse per il meglio. Ringrazio i dipendenti comunali che hanno lavorato a questo progetto, chi ha preparato il pranzo per gli operatori e chi ci ha portato dolci e caffè per riscaldarci. Andiamo avanti. La pandemia nel 2020 ha toccato tutti i settori, compreso quello immobiliare. Abbiamo tracciato un bilancio sull'andamento delle compravendite di immobile nell'anno appena trascorso. Sentiamo Federica Selis. Anche il mercato immobiliare nel 2020 ha risentito degli effetti della pandemia. Non tutte le agenzie hanno riscontrato però lo stesso andamento. Le compravendite non sono state regolari durante l'arco di tutto l'anno, con mesi in cui la crisi ha pesato di più e altri che hanno dato modo di riprendersi in parte dalle perdite. Il 2020 è stato un anno molto particolare dovuto proprio alla chiusura del lockdown. Abbiamo chiuso marzo, aprile, a maggio abbiamo riaperto con delle grosse difficoltà. Però diciamo che ce la siamo giocata nei mesi estivi, da giugno fino a settembre con ottobre. Diciamo che quello è il periodo che abbiamo lavorato meglio, ma complessivamente possiamo dire su 12 mesi abbiamo lavorato 5 mesi. Abbiamo recuperato molto del nostro fatturato, ma c'è stato un abbattimento rispetto all'anno precedente di almeno del 25%. Allora, dal nostro punto di vista come professionisti del settore direi che è andato benissimo. C'è stato un incremento delle vendite del 30 se non 40%. Quindi diciamo che il nostro settore non ha risentito di tutto quello che è stata la pandemia. Anzi, diciamo che abbiamo avuto un anno buono. Gli immobili continuano ad essere venduti e acquistati le condizioni legate alla pandemia hanno agevolato gli acquisti visto anche l'adeguamento dei tassi di interesse. Anche da un punto di vista familiare molte persone hanno deciso di affrontare l'acquisto forse dovuto anche alla pandemia un problema di stare in troppi in un nucleo familiare quindi hanno un po' incentivato gli acquisti. Chi è stata la clientela Tipo nell'anno appena trascorsa in quali zone è ricaduta la scelta dell'acquisto di una nuova casa? Il nostro cliente Tipo è giovani lavoratori qualcuno che proviene dal nord quindi delle zone di Milano, Roma, anche Roma, Piemonte e con i quali abbiamo contratto qualche compravendita ma abbiamo perso una gran fetta del nostro mercato in virtù del colore della loro regione. Molti stranieri hanno deciso di acquistare nella zona di tutto il Sulcis non solo Carbonia ma tutti i paesi che circondano Carbonia. Ad Oristano partono le vaccinazioni anti-Covid in case di riposo, comunità integrate e fra i volontari del 118. Sono 1080 le nuove dosi di vaccino arrivate al servizio di farmacia della ASD di Oristano. L'obiettivo è quello di vaccinare entro le prossime settimane tutte le strutture residenziali, sociosanitarie e sociali per anziani e soggetti con problemi di salute mentale e dipendenze strutture che contano oltre 2.000 persone tra personale e ospiti. Le nuove forniture, ha dichiarato la direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Maria Valentina Marras consentiranno di procedere con la vaccinazione di operatori e ospiti di comunità integrate per anziani e di riabilitazione e fra i volontari 118. In provincia saranno interessate dalla vaccinazione 47 strutture tranne l'RSA di Milis e l'Istituto Santa Maria Bambina già prese in carico nelle scorse settimane. Accanto a case di riposo e comunità d'accoglienza che rappresentano al momento la priorità assoluta si partirà anche con la somministrazione del vaccino ai volontari del 118. La precedenza sarà data al personale impiegato nelle ambulanze. Inoltre si procederà in questa tornata vaccinale a richiamare il personale sanitario che non ha potuto essere ancora immunizzato i centri fisioterapici e il resto degli operatori ASLE impiegati nella sede oristanese di via Carducci. Si sono intanto conclusi i richiami agli operatori dell'area sociosanitaria locale e ai medici di guardia medica di medicina generale pediatri di libera scelta personale della casa di cura Madonna del rimedio. Bentornati in studio. La consigliera Carla Cucu è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle. Vediamo insieme il servizio. In un momento di grave crisi politica anche interna al Movimento 5 Stelle il Comitato di Garanzia con un provvedimento gravemente illegittimo a firma del capo politico Vito Crimi ha decretato la mia espulsione. Lo ha annunciato questa mattina la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Carla Cucu. Nei mesi scorsi ha aggiunto avevo denunciato pubblicamente all'autorità giudiziaria numerosi fatti che dimostravano la volontà di alcuni esponenti del Movimento di estromettermi dal gruppo consigliare e dal Movimento stesso. Non ho alcun dubbio che i mandanti del provvedimento di espulsione siano gli stessi che hanno tentato in ogni modo di impedirmi di svolgere liberamente e serenamente il mandato di rappresentante del popolo sardo in seno al Consiglio regionale che mi è stato conferito dagli elettori che si sono riconosciuti nell'originario progetto del Movimento 5 Stelle e nella mia azione politica. Ho già conferito mandato ai miei avvocati Patrizio Rovelli e Lorenzo Borré ha aggiunto Carla Cucu di rivolgersi all'autorità giudiziaria per impugnare l'abnorme provvedimento del Comitato di Garanzia con il quale in violazione delle più elementari regole poste a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali di ogni cittadino si è decretata la mia espulsione dal Movimento 5 Stelle per non meglio specificate condotte che avrei posto in essere dopo aver contestato un ingiusto provvedimento di sospensione condotte che non mi sono mai state contestate con riferimento alle quali non sono state neppure emesse nelle condizioni di difendermi mia dolora conclude Carla Cucu particolarmente che questa ulteriore sconsiderata aggressione giunga in un momento in cui per gravi ragioni familiari ho dovuto chiedere temporaneo congedo dei lavori del Consiglio regionale sono comunque determinata a continuare con ogni energia nel mio impegno politico nel rispetto del mandato ricevuto dei miei elettori e nell'esclusivo interesse di tutta la comunità si va verso lo stop alla pesca dei ricci di mare lungo l'intero perimetro costiero della Sardegna per un periodo di almeno tre anni contro l'impoverimento dei fondali lungo le coste di tutta l'isola il blocco integrale sarà accompagnato con l'avvio di un costante monitoraggio marino ad opera dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente e con l'adozione di provvedimenti di sostegno a favore dei pescatori professionisti per tutto il periodo di impossibilità allo svolgimento di tale attività di pesca l'obiettivo è scongiurare la definitiva scomparsa dei ricci dal mare che circonda l'isola avviando nel contempo un piano a medio periodo che ne salvaguardi la sopravvivenza attraverso il progressivo ripopolamento dei fondali questo in estrema sintesi il contenuto della proposta di legge elaborata dal gruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale a terne notizia è il capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Mura il quale insieme ai colleghi Fausto Piga e Antonio Mario Mundula si è fatto carico di affrontare la drammatica situazione in atto ed ora ci spostiamo a Porto Scuso sono in via di ultimazione gli importanti lavori di canalizzazione e ricanalizzazione dei riflui fognari e acque bianche che tra l'altro confluivano nella maggior parte del compluio di Porto Paglietto questa situazione di rischio e periodico allarme per la balneazione a lavori ultimati verrà molto ridotta rendendo sicura la balneazione nella spiaggia frequentatissima durante la stagione estiva ed ora da Porto Scuso ad Arzachena l'amministrazione comunale ha deciso di rimborsare i costi sostenuti dalle famiglie per i pasti della messa scolastica di cui i bimbi non hanno fruito durante il periodo del lockdown e a seguito del cambio dell'affidatario anche questo è un modo per sostenere i nostri concittadini in un periodo di difficoltà causato dall'emergenza sanitaria per il covid-19 ha dichiarato il delegato della pubblica istruzione Michele Occhioni abbiamo deciso di stanziare dei fondi e formalizzare il rimborso dopo le decine di segnalazioni e lamentele pervenute ai nostri uffici da parte dei genitori che non potevano più appellarsi al gestore del servizio finora abbiamo già contabilizzato restituzioni per circa 9 mila euro sono 185 le domande già pervenute la richiesta deve essere inviata entro e non oltre il 26 febbraio prossimo i vigili del fuoco di Ozzieri sono dovuti intervenire per un incidente stradale che si è verificato intorno alle 6.30 di questa mattina all'altezza di Mesuerios per cause ancora in fase di accertamento un furgone si è ribaltato nella sede stradale gli operatori hanno messo in salvo il conducente che è stato poi affidato alle cure del personale del 118 arrivato sul posto per prestare i primi soccorsi ed ora sempre per la cronaca la notte scorsa 15 cacciatori di San Nicolo Gerrei di età compresa fra i 25 e i 60 anni sono stati sanzionati dai carabinieri della locale stazione per violazione delle norme anti-covid gli stessi facenti parte di una compagnia di caccia si erano riuniti per una cena spuntino all'interno di un ovile in quella località Sazerra per festeggiare la chiusura della stagione venatoria un disoccupato trentenne di Quartus Sant'Ellen è stato denunciato a piedi libero per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ieri sera intorno alle 21 e 30 a settimo San Pietro dai carabinieri della stazione di Sinnai il giovane a seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina e di circa 10 grammi di marijuana quanto rinvenuto è stato sequestrato e verrà debitamente custodito in attesa di essere versato presso l'ufficio corpi di reato del tribunale di Cagliari voltiamo pagina a Villapuzzo si sono conclusi i lavori sulla strada di Baculoci vediamo insieme il servizio si sono praticamente conclusi a Villapuzzo i lavori sulla strada di Baculoci un'arteria stradale molto importante per il paese ha spiegato il sindaco Sandro Porcu perché è battuta da numerosi proprietari di aziende agricole e zootecniche da tantissimi cacciatori altrettanti turisti e visitatori soprattutto amanti del trekking nei prossimi giorni si procederà al posizionamento della segnalettica la strada è stata realizzata in tutta la sua estensione in terra stabilizzata resistente a tutte le condizioni climatiche senza l'utilizzo della chimica o di altre fonti che non siano naturali ha spiegato ancora il primo cittadino per la sua realizzazione in terra dura stabilizzata è stato indispensabile migliorare le caratteristiche del terreno nel suo sottofondo e nelle sue condizioni generali siamo molto soddisfatti di questi lavori sulla viabilità ha concluso il sindaco stiamo realizzando un vero e proprio piano di rifiacimento delle strade del nostro paese interventi su così tante strade forse non si erano mai viste prima nel nostro paese sempre sul fronte delle opere pubbliche il comune di Villapuzzo ha ottenuto dal ministero dell'interno un finanziamento di 300 mila euro per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico non solo l'amministrazione ha anche ottenuto altri 140 mila euro da destinare alla progettazione alla messa in sicurezza e al ripristino dei marciapiedi di Santa Maria del PRP e per interventi sugli impianti sportivi si è tenuta sabato 13 febbraio la prima assemblea degli iscritti del PC di Gonnesa nell'attesa che nelle prossime settimane si articoli la fase organizzativa che porterà alla creazione del gruppo dirigente Mauro Inatelli è stato nominato portavoce della ricostituita sezione nel corso della riunione è stata esaminata la situazione politica di Gonnesa alla vicilia delle prossime elezioni amministrative il partito comunista di Gonnesa si legge in una nota è disponibile a confrontarsi con le forze democratiche e progressiste che vogliono guardare al futuro di Gonnesa da una prospettiva di sinistra ci sono anche due licei scientifici sardi il Giorgio Asproni di Iglesias e il Guglielmo Marconi di San Gavino Monreale tra i 50 licei scientifici italiani ammessi alla semifinale della quinta edizione del concorso Mad for Science in palio per il vincitore ci sono 75 mila euro da investire nel laboratorio di scienze del proprio istituto i licei in gara inizialmente erano 1600 andiamo avanti il sito di Tuvigeddu diventi di proprietà del demanio regionale così da assicurare la massima tutela dell'area archeologica sepolcrale punico romana più importante del Mediterraneo a chiederlo in una mozione presentata insieme ai suoi colleghi di partito e i progressisti e il consigliere regionale del partito democratico Piero Comandini che ribadisce le aspettative sono tante chiediamo che il presidente dell'esecutivo e gli assessori degli enti locali e della pubblica istruzione pongano in essere tutte le iniziative utili per pervenire all'acquisizione al patrimonio pubblico dell'area sepolcrale di Tuvigeddu e di un'adeguata fascia di rispetto per un'efficace valorizzazione e tutela e alla conseguente istituzione nel compendio così ampliato di un parco archeologico ambientale di fondamentale importanza culturale ed economica per Cagliari e l'intera Sardegna da oggi 15 febbraio presso la biblioteca comunale Nicolo Cannelles sono nuovamente attivi i servizi di prestito e di restituzione dei libri e degli audiovisivi i servizi sono attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 e 30 alle 19 nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 per gli utenti sarà necessario l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale procedere con l'igienizzazione delle mani e verrà rilevata la temperatura corporea gli ingressi saranno contingentati con un ingresso ogni 15 minuti al fine di rendere più agevole il servizio è consigliabile la prenotazione al numero di telefono 0781 41795 o alla mail biblioteca chiocciolacomune punto iglesias punto ca punto it ed ora lo sport il Carbonia non finisce di stupire nel girone G del campionato di serie D si mette alle spalle le sconfitte subite con Latina e Vissartena batte il Monterosi la squadra più accreditata per la promozione in Lega Pro e si porta ad un solo punto dalle squadre attualmente al terzo posto sugli altri campi il Muravera ha vinto 2-0 il derby di Sassari con la Torres Larzachena è tornata alla vittoria dopo 4 sconfitte consecutive 2-0 sulla Fragolese il Lanusei ha pareggiato 0-0 invece a Nola tra le squadre Sarde non ha giocato il latte dolce la cui partita sul campo di Giuliano è stata rinviata per problemi legati ai contagi da coronavirus vediamo dunque il servizio preparato da Giampaolo Cirronis sulla partita a Carbonia Monterosi al termine del telegiornale andrà in onda uno speciale con interviste realizzate con l'allenatore in seconda Gianni Maricca il bomber Roberto Cappai ed il presidente Stefano Cano vediamo insieme è un grande Carbonia quello che ieri pomeriggio ha battuto il Monterosi la squadra più accreditata per la promozione in Lega Pro la squadra di Marco Mariotti ha fornito una straordinaria prova di maturità infliggendo la prima sconfitta stagionale alla sua ex squadra dopo le due sconfitte consecutive subite in casa con il Latina e ad Artena il tecnico Biancoblu sostituito in panchina da Gianni Maricca perché è ancora squalificato è stato costretto a rinunciare ben quattro pedine fondamentali del suo organico gli infortunati Marco Russo e Fabio Mastino e gli squalificati Matteo Bagaglini ed Emanuele Odianose ha ritrovato per contro Marco Piredda e Riccardo Cestaro reduci da una giornata di squalifica in avvio subito un brivido per la difesa del Carbonia al secondo minuto su una conclusione di Balla Musasove Cristian Stivaletta ha seminato lo scompiglio sulla faccia destra ma all'undicesimo è stato ammonito per una simulazione che ne ha frenato in parte gli slanci l'equilibrio si è spezzato improvvisamente al ventesimo Daniele Cannas sfugge alla guardia del diretto avversario Alessio Petti arriva tu per tu con il portiere Alessio Salvato e viene steso dal difensore il direttore di gara non ha dubbi calcio di rigore e cartellino rosso per Alessio Petti sul dischetto si recca Roberto Cappai che non lascia scampo all'estremo difensore Il Carbonia al ventinovesimo raddoppia Marco Piredda si libera sulla trequarti si sistema il pallone sul sinistro e lo piazza imparabilmente sotto l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Il Carbonia è padrone del campo al trentaduesimo orchestra una grande azione di contropiede con Daniele Cannas Marco Piredda e Cristiano Palombi che conclude a lato due minuti dopo Marco Piredda tocca da dietro un avversario e l'arbitro estrae il cartellino giallo per il capitano ancora diffidato si profila un'altra squalifica la terza del giorno d'andata che lo costringerà a saltare il derby di domenica prossima a Sassari con la Torres Il Carbonia va vicino al terzo gol al quarantatresimo quando su un assist di Cristiano Stivaletta Daniele Cannas viene anticipato al momento del tiro Il navio di ripresa si aspetta la reazione del Monterrosi ma è il Carbonia ad andare ripetutamente vicino al terzo gol al secondo minuto con Cristian Stivaletta e subito dopo con Daniele Cannas la cui conclusione è deviata in angolo al sesto ci prova ancora Cristian Stivaletta al decimo Werther Carboni che già nel primo tempo aveva avuto qualche problema fisico è costretto ad abbandonare il campo al suo posto il diciottenne Valerio Bigotti al quattordicesimo ci prova ancora Cristian Stivaletta David D'Antoni prova un cambio inserendo Andrea Sivilla per Balla Musasove al ventitresimo e cinque minuti dopo Cianni Maricca sostituisce Musa Sumare con l'argentino Tamir Berman a rientro dopo una lunga assenza per infortunio subito dopo Ador Giucci brucia difensori e calcio a botta sicura ma trova sulla sua strada il giovane portiere Torelli che devia oltre la traversa sulla battuta dell'angolo ci prova anche Riccardo Cestaro il Carbonia difende il risultato senza grandi problemi Marco Piredda approva un altro Euro goal con un gran calcio dalla lunga distanza nel finale ultimi disperati tentativi del Monterrosi che trova il gol all'ottantanovesimo con uno dei nuovi entrati Andrea Sivilla al novantaduesimo Davide Borelli tenta di ingannare il direttore di gara lanciandosi a terra in piena area ma il signor Matteo Frosi con ampi cenni invita tutti a proseguire l'azione e l'ultima emozione perché il Carbonia arriva indenne al triplice fischio che decreta la fine dell'incontro che assegna nei tre punti benitatissime Biancoblu che salgono a quota 26 ad un punto soltanto dal Monterrosi terzo in compagnia di Muravera Nocerina e Savoia mercoledì pomeriggio sempre al campo Iscolus di Sant'Adi recupero con insieme Formia che dopo aver fermato sullo 0-0 mercoledì il Monterrosi ieri ha pareggiato 1-1 in casa anche con la capolista latina Il nostro telegiornale è concluso io vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e con Noasa in corso il nostro telegiornale in lingua sarda l'appuntamento con il TG è per le prossime edizioni ma vi ricordo che subito dopo il telegiornale andrà in onda lo speciale del Carbonia Calcio grazie e arrivederci grazie